Il virus si annida e prospera lì dove non trova ostacoli alla sua crescita, lo dimostrano i numeri. Per questo si deve correre a scudare il più possibile la popolazione per interrompere la sua avanzata. Da ieri lo scudo vaccinale anti-SARS-CoV-2 è pronto anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Un ulteriore passo in avanti nella campagna vaccinale della AS di Fosinone che consentirà di andare a coprire l'intera popolazione. In Ciociaria, ad essere interessati, sono oltre 21.000 bambini. Le prenotazioni si sono aperte ieri e potranno essere effettuate attraverso il sito dedicato della Regione Lazio. Il Vax Day è fissato per domani pomeriggio alla Sala Teatro dello Spaziani di Fosinone, dove verranno inoculate le prime 50 dosi a bambini indicati da pediatri di famiglia, soggetti fragili o figli degli stessi professionisti. L'AS di Fosinone avrà a disposizione sale pediatriche distribuite sui cinque centri in queste modalità. L'ospedale di Alatri, dove le vaccinazioni verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Sala Teatro dello Spaziani, che osserverà gli orari 9-19 dal lunedì alla domenica. L'ospedale di Sora, dal lunedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30. La Casa della Salute di Ponte Corvo è aperta dal lunedì alla domenica dalle 13.30 alle 16.30. E l'Hub Stellantis di Cassino, dove si opererà dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19.00. In tutti i punti vaccinali, al fianco del personale medico dell'ASL, saranno presenti pediatri di famiglia. Un rapporto di collaborazione consolidato e strutturato da anni che si rafforza in un momento così delicato. Grazie a tutti.